Napoli ha vinto la Juventus, perché il Parigio dell'Olimpico, oltre ad aver dato nuovo vantaggio in classifica ai bianconeri, ha dimostrato che nessuna delle due più immediate inseguitrici è in grado di impensierire la marcia verso lo scudetto degli uomini di parola. La partita, tranquilla ed equilibrata nel primo tempo, si è movimentata negli ultimi cinque minuti con due rigori in campo e con gravi incidenti sugli spalti. Ma procediamo con ordine. Il Napoli passa in vantaggio al settimo della ripresa. Un lancio di Iuliano viene intercettato da Martini, che nell'intento di toccare verso il suo portiere serve Braglia. Questi evita l'uscita di Pulici e segna a porta vuota. Da questo momento il Napoli avrà numerose occasioni per mettere al sicuro il successo. Clerici si produce in uno spunto che costringe Pulici all'ennesimo salvataggio. Si giunge alla fase calda della gara dopo una punizione di chinaglia deviata a fil di palo da Massa in barriera. D'Amico manca in pieno il pallone e finisce a terra su intervento di Orlandini. L'arbitro ravvisa gli estremi del rigore che chinaglia riesce a trasformare con un tiro piuttosto centrale. Il gioco prosegue nell'area di rigore laziale dove su un cross di Clerici Badiani interviene con entrambe le mani impedendo a Iuliano di concludere. L'arbitro fischia il rigore. È il 47esimo quando Clerici tenta la trasformazione e Pulici gliela impedisce respingendo con i piedi. Finisce così uno a uno e a gioirne è solo la Juventus.